Oramai una certezza Federico a Cornero in questo Pescara, non è arrivato il gol a Perugia ma comunque qualche pericolo importante l'hai creato, soprattutto la fiducia di Zema. No, sì sì, Perugia è stata una bella partita a livello comunque del nostro gioco perché li abbiamo messi sotto, poi ci sta un po' stretto il pareggio secondo me perché quel gol di punizione all'ultimo è arrivato un po' così, però puntiamo sempre contro l'Arezzo e Sestri a far meglio. Ecco, hai detto ci va stretto il pareggio, significa che il Pescara è molto ambizioso. Sì sì, siamo molto ambiziosi e puntiamo a salire in Serie B e speriamo, ce la metteremo tutta. Hai preso sostanzialmente il posto di Marco Delle Monache che è andato nella tua città anche se con una maglia leggermente diversa. Sì sì, gli dico buona fortuna per tutto a lui. Assomigli un po' a Marco Delle Monache? Io non l'ho mai visto giocare dal vivo però dicono di sì. L'obiettivo di questo Pescara Federico? Come ho detto è puntare a salire in Serie B e secondo me possiamo farcela perché siamo una buonissima squadra. L'anno scorso hai fatto tantissimi gol, quasi 20 se non ricordo male, nel campionato di Primavera 2. Mi dici le prime differenze che hai trovato tra il calcio dei tuoi coetanei e il calcio dei grandi? Sicuramente appunto la fisicità e il ritmo, però piano piano mi sto ambientando e speriamo di far bene. Arezzo, sabato ore 20.45, ci si aspetta sempre una bella cornice di pubblico, soprattutto che partite ti aspetti? No, mi aspetto che noi faremo il nostro gioco e punteremo sicuramente a vincere e speriamo vada bene. A Cornero adesso c'è anche Cangiano che sta bene, è un dualismo che ti preoccupa, la concorrenza fa sempre bene? No, no, io come ho già detto la concorrenza non è una parola che mi piace perché comunque noi siamo amici e ci rispettiamo e appunto speriamo di far bene tutti e due. Senti, chiudo così, poco fa chiedevo a Ivan Messi che è un suo giocatore preferito nel calcio italiano, lui ha detto ok va bene l'Italia ma guardo nella mia nazione. Giocatore preferito di A Cornero? Ma in Italia sicuramente Federico Chiesa è il mio preferito, però se devo vedere tutto il mondo penso Gudmundson del Genoa, penso sia il mio giocatore preferito.